A Potenza si prosegue con la festa per i 60 anni della Banca Montepruno con un nuovo appuntamento di spettacolo in programma il prossimo 19 novembre. Ancora una volta l'Istituto di Credito, diretto da Michele Albanese per celebrare l'importante anniversario, ha voluto coniugare cultura e solidarietà, scendendo in campo per sostenere l'AISA, associazione italiana scout avventisti di Potenza. Sabato 19 novembre il secondo appuntamento che la Banca Montepruno ha organizzato per festeggiare con soci, clienti e amici il sessantesimo anno di vita dell'Istituto di Credito, celebrazioni che guardano al futuro mantenendo però invariati i valori del passato. Ancora una volta per la festa il direttore generale Michele Albanese e l'intera struttura bancaria hanno voluto regalare ai Lucani una serata di altissimo spessore culturale con l'arrivo presso il Teatro Stabile di Potenza del noto attore Enzo De Caro e del musicista Antonio Onorato che proporranno il loro spettacolo Parole Musica. Il noto regista e attore Enzo De Caro e il chitarrista Antonio Onorato faranno un lungo viaggio nella storia dell'arte e della cultura napoletana, introdotti e accompagnati in momenti della serata dalla giovane quantautrice e artista salernitana Valentina Iannone. L'evento vede la preziosa collaborazione di due realtà associative sempre vicine all'azione della Banca Montepruno come l'Associazione Sinergie Lucane e DLive Media oltre al supporto della Fondazione Montepruno. La serata si aprirà con un confronto condotto dalla giornalista Anna Maria Sodano in cui Antonio Mastrandrea, responsabile della segreteria della direzione generale della BCC Montepruno, Roberto Vargio per DLive Media e Roberta Fiore per Sinergie Lucane affronteranno il tema della solidarietà e del suo significato. L'ingresso all'evento è gratuito e prevede solo un'offerta totalmente libera che sarà devoluta all'AISA.